E' entrato la volta buona, si aprono le gabbie, partiti i cavalli della prima corsa Parte bene dall'esterno Cengio Moon, parte bene anche la volta buona che tuttavia vorrebbe cercare una schiena La trova subito in chase down, il grigio favorito che va al comando In terza posizione si installa Menuhin, in quarta all'interno Sergio Leone che per larghi tratti è stato il favorito A concludere il gruppo, Jalapegno con la giuba gialla, poi la giuba celeste e quella di Ridge Racer Chiude la compagnia numero uno di Cascio Indiavolato Andatura non esagerata in questa prima fase con Dario Vargiù che sta portando la corsa dalla sua parte Chase down e vantaggio nei confronti della volta buona Terza corsia per Cengio Moon, più all'interno c'è Sergio Leone con la giuba a bordo e gialla Poi la giuba nera e cap a spicchi rosa per Menuhin In sesta posizione all'interno c'è la giuba celeste di Ridge Racer, poi Jalapegno e ancora Cascio Indiavolato Corsa che ha subito un'accelerazione quando i cavalli sono all'imbocco della curva Chase down sempre al comando nei confronti della volta buona In terza posizione c'è Cengio Moon, in quarta Sergio Leone, poi ancora Menuhin, Jalapegno, Ridge Racer e Cascio Indiavolato a chiudere il gruppo Siamo a tre quarti della piegata senza che nulla sia cambiato Chase down che comincia la sua volata La volta buona che lo tallona da vicino, Sergio Leone che invece sceglie corsia interna Con Cengio Moon che viene verso il centro della pista Ancora più al centro della pista troviamo la giuba gialla di Jalapegno Ridge Racer ancora Menuhin in cerca di spazio A 500 dal palo, Chase down è in vantaggio Messo sotto attacco da Cengio Moon ma soprattutto da Menuhin Prova dall'esterno di tutti anche Jalapegno e Ridge Racer In questo momento Sergio Leone non guadagna E allora Cengio Moon è attaccato da Menuhin Ancora più all'esterno c'è anche Jalapegno con Menuhin che ha passato in vantaggio E piazza a mezza lunghezza che poi diventa una, poi diventano due A 50 dal palo è tutto fatto per Menuhin Che vince facile nei confronti di Cengio Moon e Jalapegno Vince dunque al rientro Menuhin Che non correva da dicembre Quinta vittoria in carriera per il figlio di Mujahid Numero 6 dello schieramento al primo posto Salvatore sulla sinsella Il training è quello di Alduino Botti I colori sono quelli della scuderia Stema La quota al tot era di 4,71 5 in salita invece la quota fissa 6 al primo posto Vediamo la lotta per le piazze e chi l'ha risolta Cengio Moon quindi numero 2 dello schieramento E poi il 4 al terzo 6-2-4 è un ordine d'arrivo provvisorio Ma molto probabile della prima corsa di quest'oggi Apprezziamo di nuovo il frontale E appunto la netta affermazione di Menuhin Che negli ultimi 12 mesi non aveva vinto Ma non era nemmeno mai uscito dal marcatore E' arrivata la vittoria alla prima uscita del 2019 Da Cavannelle per la prima corsa è tutto Grazie